Il Signore parlò a Mosè e disse, parla agli israeliti, dicendo, nel caso che qualcuno trasgredisca inavvertitamente un qualsiasi divieto della legge del Signore facendo una cosa proibita, se chi ha peccato è il sacerdote consacrato e così ha reso colpevole il popolo, presenterà in onore del Signore per il peccato da lui commesso un giovenco senza difetto, come sacrificio per il peccato, condurrà il giovenco davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno, poserà la mano sulla testa del giovenco e lo scannerà davanti al Signore, il sacerdote consacrato prenderà un po' del sangue del giovenco e lo porterà all'interno della tenda del convegno, intingerà il dito nel sangue e farà sette aspersioni davanti al Signore, di fronte al velo del santuario, porrà un po' del sangue sui corni dell'altare dell'incenso aromatico che è davanti al Signore nella tenda del convegno e verserà tutto il resto del sangue del giovenco alla base dell'altare degli olocausti che si trova all'ingresso della tenda del convegno. Poi dal giovenco del sacrificio per il peccato toglierà tutto il grasso, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato che distaccherà insieme ai reni. Farà come si fa per il giovenco del sacrificio di comunione e farà bruciare il tutto sull'altare degli olocausti, ma la pelle del giovenco, la carne con la testa, le viscere, le zampe e gli escrementi, cioè tutto il resto del giovenco, egli lo farà portare fuori dell'accampamento, in un luogo puro dove si gettano le ceneri e lo farà bruciare sulla legna, dovrà essere bruciato sul mucchio delle ceneri. Se tutta la comunità di Israele ha commesso un'inavvertenza senza che l'intera assemblea la conosca, violando così un divieto della legge del Signore, rendendosi colpevole quando il peccato commesso sarà conosciuto, l'assemblea presenterà come sacrificio per il peccato un giovenco e lo condurrà davanti alla tenda del convegno. Gli alziani della comunità poseranno le mani sulla testa del giovenco e lo si scannerà davanti al Signore. Il sacerdote consacrato porterà un po' del sangue del giovenco all'interno della tenda del convegno, intingerà il dito nel sangue e farà sette aspersioni davanti al Signore, di fronte al velo del santuario. Porrà un po' del sangue sui corni dell'altare che è davanti al Signore nella tenda del convegno e verserà tutto il resto del sangue alla base dell'altare degli olocausti che si trova all'ingresso della tenda del convegno. Toglierà al giovenco tutte le parti grasse per bruciarle sull'altare. Tratterà il giovenco come ha trattato quello offerto in sacrificio per il peccato, tutto allo stesso modo. Il sacerdote compirà in loro favore il rito espiatorio e sarà loro perdonato. Poi porterà il giovenco fuori dell'accampamento e lo brucerà come ha bruciato il primo. Questo è il sacrificio per il peccato dell'assemblea. Se pecca un capo violando per inavvertenza un divieto del Signore suo Dio quando si renderà conto di essere in condizione di colpa oppure quando gli verrà fatto conoscere il peccato che ha commesso porterà come offerta un capro maschio senza difetto. Poserà la mano sulla testa del capro e lo scannerà nel luogo dove si scanna la vittima per l'olocausto davanti al Signore. È un sacrificio per il peccato. Il sacerdote prenderà con il dito un po' del sangue della vittima sacrificata per il peccato e lo porterà sui corni dell'altare degli olocausti e verserà il resto del sangue alla base dell'altare degli olocausti. Poi brucerà sull'altare ogni parte grassa come il grasso del sacrificio di comunione. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per il suo peccato e gli sarà perdonato. Se pecca per inavvertenza qualcuno del popolo della terra violando un divieto del Signore quando si renderà conto di essere in condizione di colpa oppure quando gli verrà fatto conoscere il peccato che ha commesso porterà come offerta una capra femmina senza difetto per il peccato che ha commesso. Poserà la mano sulla testa della vittima offerta per il peccato e la scannerà nel luogo dove si scanna la vittima per l'olocausto. Il sacerdote prenderà con il dito un po' del sangue di esse e lo porrà sui corni dell'altare degli olocausti e verserà tutto il resto del sangue alla base dell'altare. Preleverà tutte le parti grasse come si preleva il grasso del sacrificio di comunione e il sacerdote le brucerà sull'altare profumo gradito in onore del Signore. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio e gli sarà perdonato. Se porterà una pecora come offerta per il peccato porterà una femmina senza difetto, poserà la mano sulla testa della vittima offerta per il peccato e la scannerà in sacrificio per il peccato nel luogo dove si scanna la vittima per l'olocausto. Il sacerdote prenderà con il dito un po' del sangue della vittima per il peccato e lo porrà sui corni dell'altare degli olocausti e verserà tutto il resto del sangue alla base dell'altare. Preleverà tutte le parti grasse come si preleva il grasso della pecora del sacrificio di comunione e il sacerdote le brucerà sull'altare in aggiunta alle vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso e gli sarà perdonato. Quando una persona ha udito una formula di scongiuro e ne è testimone perché l'ha visto o l'ha saputo e pecca perché non dichiara nulla porterà il peso della sua colpa. Oppure quando qualcuno senza vedersene tocca una cosa impura come il cadaver di una bestia selvatica o il cadaver di un animale domestico o quello di un rettile rimarrà egli stesso impuro e in condizione di colpa. Oppure quando senza vedersene tocca un'umpurità propria della persona umana, una qualunque delle cose per le quali l'uomo diviene impuro, quando verrà a saperlo sarà in condizione di colpa. Oppure quando qualcuno senza vedersene, parlando con leggerezza, avrà giurato con uno di quei giuramenti che gli uomini proferiscono alla leggera di fare qualcosa di male o di bene, quando se ne rende conto sarà in condizione di colpa. Quando sarà in condizione di colpa a causa di uno di questi fatti dovrà confessare in che cosa ha peccato, poi porterà al Signore come riparazione del peccato commesso una femmina del bestiame minuto, pecora o capra, per il sacrificio espiatorio. Il sacerdote compirà in suo favore il rito espiatorio per il peccato. Se non ha i mezzi per procurarsi una pecora o una capra, porterà al Signore come riparazione per il peccato commesso due tortore o due colombi, uno come sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto. Li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima quello destinato al sacrificio per il peccato. Egli spaccherà la testa all'altezza della nuca, ma senza staccarla. Poi spargerà un po' del sangue della vittima offerta per il peccato sopra la parete dell'altare e farà colare il resto del sangue alla base dell'altare. È un sacrificio per il peccato. Con l'altro uccello offrirà un olocausto, secondo le norme stabilite. Così il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso e gli sarà perdonato. Ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due colombi, porterà come offerta per il peccato commesso un decimo di efa di fior di farina come sacrificio per il peccato. Non vi metterà né olio né incenso, perché è un sacrificio per il peccato. Porterà la farina al sacerdote che ne prenderà una manciata come suo memoriale facendola bruciare sull'altare in aggiunta alle vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. È un sacrificio per il peccato. Così il Signore compirà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso in uno dei casi suddetti e gli sarà perdonato. Il resto spetta al sacerdote, come nell'oblazione.